Ciao a tutti, bentrati sul canale, venuti a essere caro of the day, questa è la Ferrari, dovevamo chiudere la settimana della Ferrari Week con una macchina speciale, questa è la Ferrari, non è una Ferrari, è la Ferrari si chiama, guardate un po' che bella, penso che sia una delle ultime Ferrari prodotte dalla Mattel, perché poi è stata elevata la licenza, adesso se qualcuno è più informato di me lo scriva qua sotto ai commenti, è qual è stato l'ultimo modello prodotto dalla Hot Wheels di Ferrari, questa è la Ferrari, è la macchina speciale, questa qua mi ricordo che era stata la presentazione stampa, era stata incredibile perché avevano fatto praticamente tutto buio e avevano disegnato tutte le linee con un nastro diciamo fluorescente, e quindi con dei giochi di luci piano piano cominciavi a scoprire la linea, perché questa macchina qua è la sua linea che è pazzesca, e quindi piano piano vedevi questa linea che si costruiva, veniva fuori e poi pum hanno acceso la luce e è uscito questo modello, guardate un po' che macchina, questa qua è una macchina incredibile, anche questa super speciale, questa settimana dovete dire che ho scelto un po' di macchine speciali, cosa dite? Abbiamo fatto una bella scelta? Se vi siete persi i video andate a vederli, è che ce n'è una più bella dell'altra, questo è il modello che conta proprio, magari non è tanto ben rifinita come le altre, però c'è scritto Ferrari a tutte le parti, guardate qua l'oghino Ferrari qua sopra, qua davanti, qua dietro, però è la Ferrari, cioè la macchina delle macchine, la Ferrari delle Ferrari, questa è il 2013 prodotta dalla Mattel, per fortuna che ripeto che lo acquistate, quindi niente, quindi allora cosa c'ho da dirvi? Vado a dire buon Natale, spero che questa settimana vi sia piaciuta di macchinine Ferrari, poi ne faremo altre, perché ne abbiamo tante tante tante, tante altre Ferrari, poi adesso sono a caccia di quei modelli che mi sono perso negli anni e che purtroppo adesso costano cari, purtroppo costano cari, però ci diamo la caccia, piano piano concludiamo tutta la serie di Ferrari Hot Wheels e Matchbox. Quindi questa è stata la Ferrari Week che ci porta al Natale, quindi ciao a tutti, tanti auguri di buon Natale, ci vediamo domani con un video dedicato ai regali di Natale, buon Natale a tutti, ciao a tutti, ciao ciao!